Di come ti chiami? Maddalena. Maddalena allora, volevo chiederti che cosa fai ogni due martedì allo stadio? Faccio magazzino. Magazzino? Di quale associazione? Ti ricordi? La formica. La formica. Ma cosa fate praticamente? Facciamo i pacchi. Ah i pacchi e quindi cosa fate? Mettete le cose da mangiare dentro i pacchi. Tipo cosa per esempio? Basta? Facciamo mangiare. Robi da mangiare? Sì sì. Ok bello? Sì sì. Ti diverti? Sì sì. Grande. Senti dai saluta i ragazzi che vedranno questa cosa qui dai. Diciamoli ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao Fioi. Ciao ciao. Ciao ciao.